benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono davide e oggi siamo su è un gioco blu e tu spiegato 5 secondi fa ragazzi c'è totalmente tante ignoranze abbiamo fatto qualche parte e abbiamo detto damn boy ragazzi scusate se mentre registro vedete il mio dito che sembra lungo il sacco ma ha avuto dei problemi riguardo alla registrazione quindi ragazzi scre scre allora multiplayer create 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 di visibilità bluetooth join il tuo come si chiama il tuo kiwi boh si kiwi mangiare o qualcosa del genere ok i am inside son dentro ok fai clicca qua sotto ok ok raga io sono un messicano allora io sono minchia ma avere ragione è lentissimo il batto lento il cowboy il cowboy il cowboy il mokawama io mi devo muovere così vabbè andiamo oh ma fra 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 ho tutti i soldi del mondo c'ho hai tutti i soldi del mondo oh sto continuando a far soldi oh giuro su quello che vuoi guarda guarda fra hai lanciato una bomba fra guarda guarda quanto c'ho io fra ma hai lanciato una bomba che sei buggato ma che cazzo sto esplorando non so guarda quanto sto facendo io ma perché ragazzi se gli ha buggato il gioco praticamente davide aspetta aspetta guarda se vedi che sto piazzendo le cose qua porca puttana vedo che stai andando in una direzione sconti vedi hai piazzato qualcosa di di illegale ma io sono l'unico schiegato che ci c'è in mano una pistola guarda io guarda io guarda io io non sto facendo soldi sono a 30 monete sono a 3000 raga ma dai ti hai già buggato il gioco ti hai già buggato il gioco ma niente noi continuiamo i perterchi delle stronzate che succedono qua ma come cazzo è possibile la cosa bella ragazzi è che noi possiamo attraversare attraverso le macchine attraverso i le barriere ma quante cazzo mi stai mettendo giù grazie io avrò visto due zombie ne avrò uccisi due e basta wave 2 va bene io povero io continuo a metterle io tu continuo a metterle ma se io non vedo i zombie guarda quanto hai lento ma te stai li vedo i zombie adesso no guardalo lì uno guardalo 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 non li vedo no come non li vedi ci sono gli zombie figa spara io non li vedo guarda io non li vedo gli zombie raga ci sono gli zombie figa io sto sparando a caso e sto uccidendo pure tutti è sempre tre perché ti stai uccidendo i zombie è uccido wave 2 completata si ma sono a 6.000 monete io eh e tu metti le barriere metti le barriere eeeh cosa devo dire io ti concedi al diaio però io 58 monete siamo la wave 2 ride ride sto coglione sto comprando tutto sto comprando e si ma colpisci te che non è che se colpisco adesso sono grazie uccidendo i zombie ho ottenuto 65 monete vediamo se entra entro le barriere tanto non ti toccano eeeh ma hai detto che sei dentro la barriera eh ma se sono fuori ma che cazzo state dicendo ma no no comprare non comprare si compriamo ti dovevi tenere per l'arma tordo va bene sono te adesso non so più dove metterlo mi è sparito cosa la barriera per piazzarla devi mettere ok ti mi piace ti mi piace ciao dai ok ok una barriera ragazzi ne ho messo anch'io ok spara un attimo come no mi sto muovendo anche prima ragazzi avevamo riscontrato sempre lo stesso problema avevamo detto si si è scollegato il bluetooth come no ma vabbè è il gioco che io sto qua a sparare così tanto prima o poi succederà qualcosa no quanti zombie ci sono ancora eh nessuno a me dice 40 su 40 ma a me dice 13 su 40 ma che cazzo è raga abbiamo trovato il gioco più buggato di il gioco più buggato di sempre di play store figa si è bellissimo bellissimo fantastico ma io ci sembra che c'è un tagliaerba guarda non passano neanche la visuale quante monete hai però io come prima 65 beh che tra poco ti puoi permettere ma perché è così buggato porca troia ma non lo so ma non lo so ma dai porca troia so mi dai cioè va bene che è un gioco dove vai a vedere quanti download c'hai c'è scritto più di 100.000 download però è un minimo di cazzo ma sono lentissimo io eh e mince c'hai una un'arma grande quanto ma perché dici che io sono fermo quando mi sto incamminando fuori dall'area io ti vedo fermo va bene non ho più parole è bene che arrivano sempre di qua gli zombie eh spara 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 questo spara fra un po' no questo spara fra un po' fantastico spara fra un po' sì ma a me manca a me mancano 8 secondi inizia già la wave 5 ragazzi siamo nella stessa lobby nella stessa stanza stessi giocatori sì fra giochiamo insieme noi nella wave 4 io andiamo nella wave 5 uh ci sono gli zombie da football non mi da football americano ci sono cazzo io non trovo più lanciare patate me ne sto uccendo qualcuno almeno vai vai muoriti 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 uccidi ok fra noi mi chiedo un cazzo come no stai sparando che non c'è nessuno guarda 22 infatti 19 15 13 cosa dove sto facendo straduare legge da sopra ma dove li vedi le zombie vedi gli zombie mi ha fatto che sto sparando patate guarda ma ma dove la football figa tra le zombie da football come sono ancora alla wave 4 comunque una palla sgonfiata morta oh ma anche dietro fra cazzo di dietro a me non spara più si spara adesso arrivo pure da dietro tu pensa dietro che io penso davanti sembra un porno però comunque vai va bene io non mi sto più muovendo anzi ho messo il telefono così e sto andando avanti così ragazzi ma è finita la wave si ma io sono nella wave 6 lui è ancora nella wave 4 e sta rilaggando di cristo guardate raga lui è ancora nella wave 4 e sta rilaggando di cristo guarda quanti zombie guarda quanti zombie mi sono tipo mancati ho 22.000 monete guarda dove dove io uccido qualcuno se sparo no no io sono proprio fermo sono proprio fermo è diverso fai vedere che tu ti muovi guarda ragazzi allora io mi sto muovendo eh guarda adesso come vedete io sono fermo io questo qua sotto guarda guarda inizia un beat of football oh dietro mi stanno attaccando a me ho sparato non spara più è finita le munizioni porca troia fra ricarica che cazzo hai fatto ok carica questo ah no è finito ho preso il pompa è preso fra frate no te l'ho detto aia aia mi manca un pochino ci penso io faccio da scudo ok mi sono ancora fra 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 dietro dietro cazzo ho prendo un muzzo spara vecchietto di merda sì ma non li fai viti ma non può laggare cioè non può laggare questo gioco dai con quella qualità di questo gioco cosa ti aspetti che funziona pure bene dietro dietro sì ma perché mi dici che non stai laggando perché comunque spari bene senza vedere che terminiamo qua questa roba direi figa per forza ragazzi sono adesso la wave 5 io sto iniziando la wave 6 e lui è ancora nella wave 5 non sei la wave 7 te forse ok abbiamo scelto che il gioco è più buggato di tutti comunque che comunque che comunque zombie kill e la madonna quanti ne hai killati te fra 265 tu 100 155 ha ucciso lui ma stiamo tipo lanciapatate io a me non mi ha contato gli zombie raga dai a me la galicona del gioco guardate come vai a fuda guardate fluidissima raga ragazzi terminiamo con questo video spero che il video vi sia piaciuto se fosse così consigliamo di lasciare un piace non so cosa dire condividete il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo il video sarà il gioco più buggato di sempre ragazzi potete immaginare noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi